quante volte hai udito il commento come vola il tempo quando sei colmo di gioia e di felicità quando dai meglio di te stesso quando vivi per gli altri e ti preoccupi intimamente del bene del tutto il tempo vola davvero e ne gusti ogni secondo tu vivi nel tempo ma non è necessario lasciare che esso divenga un fardello e ti travolga vi è un tempo per tutto per tutte le cose che vuoi fare poiché sarai tu a trovare il tempo per esse ogni individuo possiede la stessa quantità di tempo ma è il modo nel quale la si utilizza che conta non ti lamentare dunque se alcune anime hanno più tempo di altre non essere mai schiavo del tempo ma fane invece il tuo servitore devi decidere cosa fare e poi dedicartici scoprirai di avere il tempo per farlo parla signore parla signore parla signore parla signore